VAMOOOOOOS, MUI LIMA! Piloti, aggiungete un'ora alla vostra tabella! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Io ho preso proprio il Speed Limit! Io ho preso proprio il Speed Limit! Io volevo guardare! Ovviamente non potevamo stare a quel ringraziamento! Io ho preso proprio il Speed Limit! Io ho preso proprio il Speed Limit! Io ho preso proprio il Speed Limit! Ero! Eccolo! Che spettacolo! Che spettacolo! Eccolo qua che già! Proprio la prima prima traccia che navigavo e nella navigazione ho fatto delle stupidate Però dai, guarda! Complimenti! E ando giù con la canna da pesca e sta pescando diversamente salmone E questo è nuovo! Questo chi è? Allora! Qualcosa riesce ancora non ci siamo! Non esagerare! Esatto! Ok? Vivo via! Qui è andato in finale! Sono veramente strumenti di navigazione e non agente! Grazie mille! Ciao Paolo, grazie a te! Grazie, grazie! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Dai, dai! Davy, o magari aggianno? Allora! Non ci mani vasto solo! Insh мясamo a Bernetta Lillia! Bene! Super! fabio come stiamo? grande fabio benvenuto è sempre un piacere vivere nell'ambiente dell'enduro e tutto quello che è due ruote a motore fabio fasola un mito una leggenda che bello vederti fabio anche perché questa qui è una manifestazione che è anomala perché non è una gara con trofeo del tiro più forte è una gara è un trofeo a chi si distingue e poi ci sono dei premi molto importanti assolutamente sì sono dei wild card in tante manifestazioni che sono degne di nota e poi dobbiamo ringraziare anche te perché comunque cioè fai parte ci aiuti a raggiungere questi obiettivi qui ma è quello che posso mentire la prima linea l'ho fatta senza pensare non c'è neanche pensato che praticamente dovessi pensare solo a navigare non andando forte bello sei inviativo ciao 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 è roba mia lo so che non è roba tua però ti vedevo tutto ma poi oggi c'è con il lumidino che ti spezza in due per bene infatti c'è il lumidino come qua grande dai ehi la è sempre il numero uno sempre avanti prima di tutti super avanti avanti sempre prima di avere il muocio ovvero viceversa il sole è successo il sole l'alto è quello di cui è stato il sole è stato il sole è stato il sole tutto un'altra è 뻔ata Infatti è veramente difficile, ci legge veramente bene. 3.06 ma ci hai fatto ancora il meglio! Quindi mi raccomando, come prima, non posso dire come me. Tutto bene? Quello dicono i giudici che sono andata un po' bene. Bene, spettacolo! Grazie! Il mono di questo qua è il Loris, questo qua ha usato. Che bello! Questi qua devi bisognarti personalmente tu. Ricordiamo che tu sei Andreani. Sì, Andreani e c'è tutti anche. Sì, c'è tutti. Lei dopo Alessandria. Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 7 km ma devi andare a 26 km all'ora. Era come regolarità più o meno. Sì, ma devi andare con una regolarità, non veloce, hai 18 minuti per fare 20 km. No, ho capito. E entri nel secondo, insomma, c'è tutti gli strumenti che devono avere una mette, la gincana. Giampi, guarda un po' di più di più, guarda che roba, il vero Babbo Natale, il vero Babbo Natale. Allora, allora, guarda che vi è un'altra, che è un'altra, che è un'altra, che è un'altra, che è un'altra. Per dice, come a te che, è un'altra, che è un'altra, che è un'altra, che è un'altra, che è un'altra. Grazie a tutti. e questo risultato totalmente inatteso, non me lo aspettavo, tant'è che con il mio general manager che è Agnese, mia moglie, non ci credevavo, quindi grazie a tutti e sono emozionatissimo. Voglio dire una cosa, questa è la seconda edizione di Reale, la prima l'avevamo fatta online, su 20 partecipazioni che abbiamo fatto con i 4 piloti diversi abbiamo sponsorizzandoli, abbiamo vinto 16 gare. Grazie a tutti, è andata fortissimo, i ragazzi nel torretto mi hanno detto che erino puria. Come sono andati questi due giorni? Beh, è stata la mia prima partecipazione a questo forum, quindi devo fare i complimenti assolutamente perché si respira un'aria bellissima e quindi grazie, è un percorso stupendo, non mi aspettavo così tecnico, infatti c'hai sorpresi Dante, complimenti e niente, sono... Ho disegnato Roberto, ah allora complimenti anche a Roberto, per l'edizione, una delle edizioni della G-Builted Race Europa 2024, ho qualche impressione di questa, senza parole perché non me l'aspettavo proprio, pensavo di essere stato lento, quindi sono contentissimo, grazie, grazie a tutti, ti rivedremo, grazie a te. Allora, consegna il premio un altro grande pilota, Joe Moretto. Grazie a tutti! 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 Quindi, ormai mi sono divertito molto, grazie alla navigazione, che è fettucciato, è stato tutto ottimo, così... Grazie, grazie, un grande abbraccio! Miledunas in Marocco, il proprietario è un pilota di aerei, una bravissima persona, molto militare, grande ambiente e vi consiglio di andare a vedere. Iniziamo. Chiamo per la premiazione una persona importante, Rainer. Rainer è l'organizzatore del Tuaregarelli che io corro dal 2009. Come è arrivato qua ieri, ha subito detto che per il 2025 ci darà una wincar per questa categoria per correre il Tuaregarelli. Direi che il team Dante Fabrizio siete una garanzia da ritornare. Grazie a voi amici in alto. Come stai? No, come stai tu? Eh, dai, sto bene. Ancora mi sto ridendo. Fabri, Fabri! Grazie, grazie di essere venuti. Salute a tutti, un grande bacione. Com'è? Bello. Mi è piaciuto? Sì, però è stato un'ora di sole ovviamente, è stato un'ora di sole che erano lì sotto. Sì, sì. Infatti io ieri... Sei collassato che te. Sì, esatto. È stato bellissimo. Fede, vieni. Ah, ok. Oh! Dopo un anno di lavoro? Un anno di lavoro. Sembra un evento di due giorni ma c'è un anno di lavoro e infatti voglio ringraziare tutti. Dante in primis. Sì, è stato... Ieri sera ha fatto le classifiche, fino all'ultimo secondo non si è distolto lui. Sì, sì. Suo figlio, Gianmarco. Suo figlio, Gianmarco e sua moglie. Delle bombe. Sì, sul pezzo. Tutte le persone che lo hanno aiutato perché per fare un evento del genere ci sono parecchie persone che nel loro tempo... Hai tutto qua nella tua testa! No, 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 sono stati bravi. Bravi. Ragazzi ci vediamo l'anno prossimo. Iniziamo a finire oggi. Sì. Forza Made in Italy. Sempre. Sempre. Sempre Made in Italy. Grazie a tutti i partner. Ci vedremo al Rally d'Albania, al Tuareg Rally nel 2025. Andiamo al Bike Village al Sardinia Legend Rally, porteremo un pilota. Alla Gibraltar Race che adesso annunceranno. Al Rally Gris Rally. E al Mille Dunas. Quindi insomma una... E sempre con energia sorrisi. E poi al Motorelli. E Paolo! 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 Grazie eh! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!